Pittura e arte culinaria si incontrano per beneficenza. Nasce così il calendario artistico realizzato con le immagini delle tele di Francesca De Gennaro e i piatti dello chef Filippo Cogliandro presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la Gourmet di Reggio Calabria. Il ricavato della vendita del calendario sarà donato in beneficenza alla Fondazione Benedetta e la Vita Onlus che si occupa di sostenere la ricerca per la cura delle leucemie ma anche di aiutare i bambini delle famiglie meno abbienti. Nasce più che altro da un'idea voluta per la Fondazione Benedetta e la Vita nel senso che il connubio sono le mie tele cioè il fatto di aver in questi due anni e mezzo prodotto nonostante il lavoro e tutta una serie di vicistitudini lavorative perché con cui io faccio tutt'altro il connubio con Gennaro è un intersecarsi di qualità nel senso che comunque è la qualità che aiuta le mie opere ad emergere un attimino in questo calendario. Beh, oggi devo necessariamente ringraziare Fidarte per questa opportunità l'arte in cucina oggi è un aspetto molto importante e Reggio Calabria in questo momento si sta unendo Filippo Cogliandro, la sua arte, la sua cucina a Francesca ed è venuto fuori un connubio perfetto arte, cucina, food, pittura questo permetterà finalmente anche al mio territorio al nostro territorio di esprimere quelle che sono le capacità ecco, oggi è importante mandare un messaggio nuovo noi siamo una città internazionale anche in questo l'arte riesce a trasmettere sensazioni, piaceri, stati d'animo la cucina lo stesso finalmente ci siamo riusciti Sì, diciamo che approfittiamo da tre anni della ospitalità di Fidarte di fatto Fidarte è parte del gruppo Fidam il premio Piacentini è stato ideato dal gruppo Fidam quindi è tutto in famiglia i due premi vanno insieme il premio Piacentini ha una connotazione una caratteristica sostanzialmente etica cioè si attribuisce a personaggi che si siano molto distinti dal punto di vista professionale quindi che siano al top della carriera ma che questa carriera l'abbiano costruita solo ed esclusivamente in base alle loro qualità umane e soprattutto etiche quindi il primo premio Piacentini è stato assegnato a un grande magistrato, al dottore Mannino quest'anno abbiamo deciso di assegnarlo alla ricerca e alla medicina quindi un grande chiorgo, Luigi Sofo è un genetista che sta rivoluzionando le teorie evoluzionistiche sia quelle darwiniane che quelle creazionistiche quindi discorsi che ci esaltano perché sono cose bellissime di grande impatto il premio Fidarte il premio Fidarte è sostanzialmente un premio artistico è un premio che si dà o per concorso o per assegnazione quest'anno è per assegnazione il settore per scelto è stato la musica quindi daremo il premio a due musicisti molto 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 bravi, regini e ad una scuola di musica condotta e creata da un altro musicista regino quindi avremo il piacere quest'anno di ascoltare bellissima musica classica quando ci sarà l'evento? venerdì alle 17 ci sarà il vernissage della mostra di Francesca di Gennaio e sabato alle 18 ci sarà il premio Piacentini e il tutto organizzato dalla nostra Santina Scopelliti che senza di lei dal punto di vista organizzativo tutto sarebbe ancora da creare e da inventare sì sicuramente, oramai è da 7 anni che la fondazione opera nel territorio regino e a livello nazionale per l'assegnazione di borse di studio nel campo della ricerca onco-ematologica nel territorio regino invece diamo sostegno a minori in situazioni di disagio l'attenzione che l'associazione Fidarte ci ha voluto dare in questa circostanza per noi è un segno di amicizia e un piccolo segno di affetto la cosa importante è che il ricavato appunto di questi calendari realizzati con i quadri dell'artista di Gennaro contribuiranno in questo momento alla realizzazione dell'ultimo progetto che è in essere come fondazione in collaborazione con l'associazione Abbachi si sta realizzando presso i locali dei Monfortani la ristrutturazione completa di una palazzina che i padri Monfortani hanno dato la disponibilità di poter utilizzare per l'accoglienza di minori questo è l'ultimo progetto che si cerca di portare a termine il connubio arte, la cucina di Pippo Cogliandro e l'attività della fondazione io lo imparnerei su un nome bellezza, bellezza che può essere appunto la bellezza dell'arte la bellezza dei piatti di Cogliandro la bellezza in genere di chi si sa continuare a rivolgersi alla vita con un occhio attento e che cerca appunto il bello in tutte quante le sue espressioni possibili e sarà bello per chi renderà questo calendario a avere sfogliare un 2020 con le opere dell'artista noi come fondazione continueremo a cercare di fare il possibile per dare una mano a chi si trova in uno stato di bisogno a chi si trova in uno stato di bisogno www.merdi.ru www.merdi.ru